A cura della redazione Roma un ragazzo 12 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo essere stato colpito da un fulmine questo pomeriggio 30 agosto al campo del Celdit Chieti mentre stava per iniziare l'allenamento con i compagni soccorso dai medici del 118 per arresto cardiaco il giovane calciatore è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale santa annunziata in codice rosso scene di panico tra i compagni del ferito che vive a Chieti Scalo e tra i familiari immediatamente avvisato che si è precipitato in ospedale